Questo Golden Retriever, che è stato abbandonato, desiderava solo ricevere amore dalla sua famiglia, ma questa ha scelto di non prendersi cura di lui e di non dargli una casa. Per fortuna, il destino ha preso una svolta diversa per lui. Infatti, dei soccorritori hanno evitato che venisse sottoposto all'eutanasia a cui era stato destinato. Clarence è un Golden Retriever abbandonato dalla sua famiglia, che non si prendeva cura di lui né della sua salute. Un giorno, i suoi proprietari hanno deciso di lasciarlo in un parcheggio, dove ha incontrato due amici, un pastore tedesco e un chihuahua. Tuttavia, gli addetti al controllo degli animali hanno preso Clarence e il pastore tedesco, destinando il Golden Retriever all'eutanasia. Fortunatamente, la fondazione Hounds in Pounds è intervenuta prontamente, salvando il cane da quella triste fine. Clarence era profondamente grato ai suoi soccorritori per quello che avevano fatto, e non ha mai smesso di abbracciarli, rimanendo sempre al loro fianco. Questi gesti riscaldano il cuore e dimostrano quanto amore ci sia nei nostri adorabili amici pelosi. Per fortuna, Clarence ha trovato una nuova casa con una famiglia che lo ama molto, nel New Jersey. Tutti in casa lo adorano, poiché è in grado di portare gioia ovunque vada. Non ha avuto un passato felice, ma adesso è sicuramente un cane molto fortunato. Siamo sicuri che i suoi nuovi proprietari lo tratteranno come un vero membro della famiglia, senza mai fargli mancare nulla. Ogni cane merita una casa in cui vivere, piena di amore e rispetto. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.